Ora, io non so cosa sia successo e chi ha detto cosa e dove, ma posso solo immaginare che sia frutto dell'invidia, tesoro. L'invidia di... O quello che è di ciò che faccio. Mi afflitto per tutta la vita e mi dispiace che affriga te ora. Spero ti aiuti a saperlo. Quindi non sono voci vere. No, tesoro. Grazie per essere venuto a parlarmi.